Capitano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora dove andiamo stamattina? Oggi andiamo a Campli. Dove si trova? Provincia di Teramo. Sono appena 4 ore di viaggio. Passerei la parola al grande Capitano. Capitano, vedi? Capitano, atteniamo, atteniamo dai. Ciao Frank. Ciao, buongiorno a tutti. Allora oggi andiamo a Campli, una trasferta abbastanza impegnativa. È Alto Abruzzo, provincia di Teramo. Quindi un bel viaggetto? Eh beh sì, sono scarsi 400 chilometri. Quindi stasera alle 18, stasera alle 18, sì. Stasera alle 18, sì. Stasera alle 18, sì. Stasera alle 18, sì. Stasera alle 18, la vostra partita, perché con quelli di Campli siamo a metti d'accordo per finire la indifferita. Beh sì, è una cosa importante, anche per tutti i molesi. Stiamo andando bene. Beh sì. Siamo ferro, come al solito, perché poi queste sono cose che però comunque, voglio dire, le vittorie ci stanno dando abbastanza fiducia, anche perché... E il pubblico si comincia a vedere. Il pubblico si comincia a vedere. Questa è la cosa più importante. La prossima dov'è? A Mola. La prossima sempre a Mola, in casa contro il Nardoff. Con il Nardoff, che è un po' dura, vero o no? Sì, però io in questo momento vorrei pensare alla partita di oggi. È molto più importante. Franck, il nostro teofilo, come sta? Meglio oggi? Sta meglio, sta meglio. Il giovedì è ritornato ad allenarsi, io sono molto contento. Ti vede, ti vede che... Sì, sì, è abbastanza felice, sta lì, che vuole fare colazione. Eh, non vuole fare colazione, eccomi. Sono beccato. Siamo abbastanza tranquilli, dai, sereni per affrontare una trasferta abbastanza lunga come questa. è impegnativa sul campo, più che altro. Buona fortuna, naturalmente. Crepi. Buona fortuna, non un bocca al lupo, quindi... Grazie. La fortuna è sempre buona. La grinta, che vive molto bene in campo, molto in virtù. Beh, sì, sì. Bisognerebbe mettere sempre più energia, partita dopo partita. Ecco lì. Ehm, aspetta. Aspetta, aspetta, ti è buono! No! È arrivato Leo, è arrivato Leo. Leo, è Leo. È arrivato il presidente, dai. È arrivato il presidente, dai. È arrivato il presidente, è arrivato il presidente, buongiorno, vai, buongiorno il presidente. Video, video. Video? No, è video, no, stiamo mangiando i ragazzi, che cola. Chi è mangiato, dai? Non ho capito. Dai, parla un po', di qualcosa. Ehm, fa prima cosa, ce l'ho fatto. Fa la sua esperanzione. Vabbè. Non sa neanche dove giochi. La Pampage la facciamo partire stasera. La facciamo partire stasera. Ma abbiamo gente che non sa neanche in quale squadra giochi, non conosce il nome. Che squadra giochi? Io? Molfetta. Hai visto? Non è quella giochi? Monopoli. Cisternino. Castellana. Una squadra diretta parecina. Ahahahahahahaha.